questa trasferta con questo caldo proprio non ci voleva viaggiare in treno con questo caldo ok siamo arrivati si ti lascio un po' più avanti c'è neanche il tempo per un caffè il treno è tra mezz'oro ma poi va a finire che trovi traffico arrivi tardi in ufficio lasciami qua si andate solo un po' più avanti aspetta un attimo dove posso ok proprio segui di là lui luca grazie mille buone cose ci vediamo dopo domani si venga a prendere tu la macchina o mi raccomando per la macchina che qua salta che i mari vuole qua per niente ti con una scusa che fanno scendere la macchetta ruba sei tranquilli rilassi buon viaggio buon lavoro ciao oh oh ma guarda questo guarda questo ma dico io ma stava dormendo non mi avete visto uscire da vicolo a fine prova contrario siete voi che dovete vedere in me ma io venivo da testo e andavo piano piano siete voi che mi siete venuto addosso venuto addosso io vi ho toccato appena 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 voi mi avete distrutto un'auto nuovissima nuovissima l'aceto oggi nuovissima elegante prego elegante andiamo a vedere andiamo a vedere sto danno andiamo a vedere sto danno che lo dobbiamo quantizzare ogni volta che era ogni volta che era ogni volta che era ogni volta servo un testimone ci ho visto tutte ferma ladro ladro ricordo ancora con tristezza l'abitacolo deserto padre pio sul parabrezza e la voglia insana di testare l'airbag lato passeggero di cui tanto andavo fiero e poi finalmente tu la mia svolta na 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 le parole che mi hai detto hanno interrotto il mio tran tran vengo a prenderti alle sette e mezza a non farmi aspettare di cui l'ho di cui Torni con me Torni con me Torni con me Torni con me